54 persone, una rete che gestiva un giro di estorsione e riciclaggio di denaro tra il Veneto e la Calabria, concluse le indagini preliminari dell'operazione Camaleonte che ha portato alla luce le infiltrazioni dell'Andrangheta Nord-Est. 39 persone erano già state arrestate o indagate, a queste se ne aggiungono altre 15 dopo le nuove testimonianze di imprenditori veneti vittime di estorsione. I nuovi provvedimenti in tutta la regione, Padova, Venezia, Vicenza, Benquattro, Atez e Sulbrenta, Treviso e Belluno. L'indagine era partita nel 2013 dalla provincia di Padova dopo il pestaggio e il tentato sequestro da parte dei fratelli Sergio e Michele Bolognino di Galliera Veneta ai danni di un imprenditore di Treviso. E proprio la città del Santo si conferma punto centrale dove la cosca cutrese del grande Aracridi ramava i suoi tentacoli con la figura del calabrese Antonio Mangone di Legnaro. Tra gli sviluppi più importanti quelli che riguardano un imprenditore edile di Vigonza che ora è accusato di associazione delinquere e di aver partecipato direttamente alle estorsioni. L'imprenditore che già era indagato in una precedente fase oggi risponde di 416 bis perché siamo riusciti a dimostrare come effettivamente partecipasse alle attività finanche estorsive dell'associazione. Quindi partecipava in tutto e per tutto a quello che era l'attività dell'associazione, in questo caso di Indrangheta. Carabinieri e finanzieri hanno raccolto in questi mesi le testimonianze degli imprenditori vittime del sistema di estorsione. Nei loro confronti venivano messi in atto continue pressioni psicologiche, un metodo mafioso che una vittima paragona a quello di Al Capone. In un caso la moglie di un imprenditore in lacrime ha raccontato dei risparmi di una vita andati in fumo. Il marito ora ha problemi di cuore e lei combatte la depressione. Oltre alle estorsioni poi c'era anche la parte della pulizia del denaro illecito che veniva riciclato attraverso false fatturazioni. Un'impresa cartiera riconducibile appunto ai soggetti calabresi emetteva false fatture nei confronti delle imprese locali. Quindi c'era il giro di false fatturazioni. Il denaro contante si tramutava appunto in bonifici, quindi bonifici tra società e il denaro era ripulito. Dopo l'avvio delle indagini dell'operazione Camaleonte, un imprenditore veneto accusato di aver agevolato queste operazioni ha deciso di sanare la propria posizione versando nelle casse dell'erario 5 milioni e mezzo di euro.